L'Italia è un paese sempre meno credente. Secondo una ricerca della CEI, solo un italiano su dieci è praticante, mentre la nuova generazione non crede più. Molti stanno già festeggiando, mentre tanti altri non sono sorpresi, diciamocelo. Che cosa ne penso io? Io penso che la religione debba essere soltanto personale. Molti ancora non hanno capito che la fede si basa proprio su questo, il credere in qualcosa personalmente. Non deve avvicinarsi alla politica per imporre qualcosa se non per aiutare su un determinato argomento. Non deve imporsi sui diritti e l'autodeterminazione, che si parli di donne, omosessuali, uomini, giovani, adulti e così via. Uno dei tanti motivi per cui infatti la gente non crede più è che è troppo distaccato il pensiero religioso da quello attuale, dell'essere umano, dell'evoluzione sociale. E non si tratta di imporsi sugli altri, semplicemente la religione è una cosa, la società, l'essere umano, lo sviluppo della società è tutta altra cosa. Possono andare di pari passo ma anche le istituzioni religiose devono svegliarsi su questo. Poi ovviamente questo cambia di paese in paese, per esempio in paesi con la religione di stato tutto ciò non potresti averlo perché hai un'imposizione. Così come molti musulmani hanno una visione diversa per quanto riguarda il credere, hanno una passione più sviluppata, sono più propensi a quel mondo lì, è normale. L'importante in una società civile è avanzata e non imporsi sugli altri e non negare quelli che sono i diritti umani. La religione deve rimanere qualcosa di personale, fin quando questo concetto non sarà universale su qualsiasi religione, si avranno sempre problemi del genere. Perché vi dirò la verità, a me non fa né caldo né freddo, cioè se ci sono meno credenti o più credenti, l'importante è avere appunto una società che sappia distaccare il pensiero religioso da quello reale. Che sappia sfruttare la religione per portare del bene nel paese e non del male, dell'oppressione, delle negazioni di diritti umani. Il resto infatti è fuffa e roba per fanatici che non mi appartiene. Grazie a tutti. Grazie a tutti.